Siamo nel Fab Lab del Santa Chiara Lab, laboratorio che fa parte di una rete internazionale nata per realizzare una grande visione, quella di rendere le tecnologie accessibili a tutti, anche a non esperti. E qui a Siena abbiamo introdotto una novità importante, aprendo questo laboratorio a chiunque. È possibile dunque lavorare con vari tipi di materiali, costruendo oggetti di artigianato, è possibile lavorare con la materia digitale, realizzando modelli in digitale, è possibile anche mescolare i due mondi, realizzando per esempio delle tecnologie indossabili. Vi aspettiamo il 29 settembre al Santa Chiara Lab, dove presenteremo Fab Academy 2018, l'accademia dove è possibile imparare ad utilizzare la stampa 3D, il taglio laser, la modellazione 3D e molto molto altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.